Quali i segreti di una manifestazione così longeva e sempre di successo? I segreti sono che la canottiera di San Rebo è una famiglia e quindi come tutte le famiglie ci si dà sempre una mano a tutti e cerchiamo di ottenere il miglior risultato. Questa carica di entusiasmo viene recepita anche dalle società ed ecco che si instaurano dei rapporti che si consolidano con gli anni, quindi a 33esima edizione. E' chiaro che le società, Motoguzzi, Posillipo eccetera che da sempre sono venuti hanno trascinato altre società e così c'è un cambio delle società che è lento e tutte le zone d'Italia sono ormai approdate al Torfeo Vachino. Il merito è della Canottieri, dei soci, degli atleti, degli amici. Voglio ricordare Renata Albarelli che da sempre con la famiglia Albarelli sono stati uno dei perni portanti della Canottieri. Questa loro volontà fa sì che venire qui sia un piacere, un divertimento e poi Sanremo ci mette del suo. Giornate come queste per persone che vengono dalla Lombardia dove il clima è esattamente il contrario di questa giornata. Mi farebbe piacere che guardate alle nostre spalle tutti i ragazzi che dopo aver finito la gara stanno facendo il bagno e oggi, ricordiamolo, siamo oltre metà ottobre. Ecco, quindi questi sono poi i segreti e le alchimie. Poi dopo c'è la professionalità, quindi si deve ringraziare per dire il Comune di Sanremo, la regione che ci permettono di fare questa manifestazione, la Capitaneria di Porto che permette nell'acqua del Porto di Sanremo di effettuare queste gare, i carabinieri, la Croce Rossa, i medici, c'è tutto lo staff tecnico che è di supporto all'iniziativa. E poi bisogna ringraziare le società, le famiglie e per ultimi e per primi i ragazzi. Lo ricordiamo ancora una volta, trentatresima edizione del Trofeo Aristide Vacchino, un ricordo di questo personaggio che tanto ha dato al mondo degli sport acquatici a Sanremo. Sì, da sempre ha avuto una grandissima passione per il mare. Io non l'ho conosciuto ma dai ricordi delle persone che lo hanno conosciuto c'è sempre la nuotata sia invernale che nonne, la passione per il canottaggio e quindi il contributo per la canottiera e quindi per la parte dello sport d'acqua come oggi ricordiamo. Una passione che è rimasta perché molti atleti della canottiera hanno raggiunto anche risultati importanti a livello internazionale e questa manifestazione è dedicata ai più giovani che quindi si sono avvicinati a questo sport e fanno le prime gare e poi chi sa che magari tra questi ci saranno atleti che porteranno in giro la bandiera dell'Italia.